E così questa sera rimarrete insieme a me. Volete fare un gioco? Facciamo una gara a chi sta seduto più fermo. Vuole braccia a concerte? Grazie. 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 Ok, il gioco è finito. Siete pari? Vuol dire che siamo tutti e due secondi. Siamo i numeri due, siamo i numeri due. Che ne dici, Maggie?